GORMITI! Potenza! Ehi, aspetta un secondo. Non è andata in questo modo. Non è vero che hai sconfitto Vaidus da soli. Bene, ora sono bloccata anch'io. Oh no, sono tutti bloccati. Sì, adesso si ragiona. Vi ricordate che ancora non abbiamo un piano? Se proseguiamo dritti non arriveremo mai. Siamo già arrivati. Siamo già arrivati. Xator ti ha fatto infuocare. Capito? Infuocare. Silenzio! Non prendere in giro il tuo amico. Non vedi che... Fuma di rappi. Sono il Guardiano Supremo. Non c'è niente che possa spaventare. Io non sono più un bambino, ok? Andrò lì sotto da solo. E non è vero che ho paura dei morcogon. Sì. È un vero campione di schiva la roccia. Lo ridurrà come un pezzo di slug. Sì. A cosa servono i muscoli se i tuoi avversari non hanno un cervello? No! No! Su! Prego! Va bene! Reggiti forte! Ho la nausea! Vai, Trek! Vai! T-R-E-K-TREK! Primo, vento, uno, fuoco, lento! Che succede? Guarda laggiù! Prossimo sigillo! Sto arrivando! RIT! 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 Gormiti